È durata due ore circa la requisitoria del PM Roberto Rossi nel corso dell'udienza per l'inchiesta Coingas, l'azienda partecipata dal Comune di Arezzo. È stato chiesto il rinvio a giudizio per 11 dei 13 imputati, tra cui il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, l'assessore Alberto Merelli e il presidente di Estra Francesco Macri. A loro carico accuse che vanno dall'abuso d'ufficio al favoreggiamento, decadono invece le accuse per il reato di abuso d'ufficio per Ghinelli e Merelli riguardo il ruolo in Coingas a seguito della modifica della norma. Nell'udienza di oggi hanno preso la parola anche i legali degli imputati, ma le arringhe termineranno il 15 di giugno. La decisione su due dei 13 imputati che hanno scelto il rito abbreviato, ovvero l'ex presidente di Coingas e collaboratore di giustizia Sergio Staderini e Bigiarini, è in calendario per il prossimo 22 di giugno, a luglio poi la sentenza del giudice Lombardo.